L'accipelago Gulag è l'opera più importante e più famosa di Alessandro Sogenizi, scrittore russo dissidente. Un'opera particolarmente interessante perché rivelava forse per la prima volta in maniera diretta e molto forte la realtà dei campi di concentramento russi, sovietici, i cosiddetti Gulag, dove i dissidenti, coloro che al regime non piacevano, venivano mandati. Sogenizi si basa, per questo che più che un romanzo è un'autobiografia o una biografia tipo un saggio, si basa anche sulle testimonianze dirette di molti che erano stati internati nei Gulag. La cosa interessante è l'opera e la genes di quest'opera. È stata scritta, ha cominciato a scrivere meglio Sogenizi già nel 1958, di nascosto dalla polizia sovietica, affinché il KGB riuscì a costringere una delle datilografe a rivelare dove si trovava il manoscritto, che fu quindi trovato. Questa persona, questa donna, presa da rimorso, si suicidò. Allora Sogenizi, pochi anni dopo, convince alcuni suoi amici francesi a pubblicarlo in Francia, perché il manoscritto originale ce l'avevano anche loro. E quindi fu pubblicato proprio come quest'oggi in Francia nel 1973. Ebbe un grande clamore, una grande eco in Francia, in Italia un po' meno, anzi fu criticato piuttosto osperamente da molti letterati intellettuali di sinistra. Tanto per di Italo Calvino, che peraltro ammirava Sogenizi per altre sue opere, disse che questa sua opera in qualche modo era troppo presa dal pragmatismo cristiano, come se il cristianesimo fosse l'unica realtà salvifica, così diceva Sogenizi. Io direi che tutto sommato Sogenizi non aveva tutti i tordi, e quindi credo che oggi sia da riscoprire, una volta cadute le ideologie, questo grande saggio, e nello stesso tempo romanzo, e nello stesso tempo biografia, perché ha non soltanto un grande valore letterario, ma anche un grande valore di testimonianza. Grazie.